Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buon 2 giugno a tutti, giorno di festa sicché ho detto mi faccio un bel video perché insomma c'è una notizia importantissima che era già nell'area ragazzi ma è arrivata l'ufficialità da parte dell'Empoli in serata di ieri, insomma tardo pomeriggio che nonno Andrea Azzoli non è più l'allenatore dell'Empoli per la prossima stagione, quindi Andrea Azzoli va via da Empoli di fatto, quindi insomma questo vuole essere un po' un video diciamo insomma di ringraziamento, di appunto celebrazione per quello appunto che lui ha fatto ragazzi ad Empoli poi insomma chi sarà il suo successore più o meno già si sa da un po' di tempo ragazzi sarà appunto Paolo Zanetti, Paolo Zanetti sarà appunto il successore sulla panchina dell'Empoli per la prossima stagione di Serie A però insomma qui appunto ci tenevo un po' ragazzi a insomma ringraziare appunto il non Andrea Azzoli, celebrare un po' quello di bello che ha fatto insomma ragazzi quando è stato qui da nuova ad Empoli perché insomma ha fatto bene ragazzi perché insomma nell'anno della Serie B vi ricordate che insomma grandissima stagione ragazzi Empoli che insomma era veramente una corrazzata, andava a vincere ovunque poi io mi ricordo delle belle partite insomma tutti questi 4-0 in casa con ragazzi Parma, Bari appunto Palermo insomma tante belle tante belle appunto vittorie ragazzi sia in casa che fuori casa insomma uno squarrone grazie insomma anche ai giocatori però insomma anche con il bel gioco poi ragazzi insomma purtroppo insomma l'amara reprocessione di quante tre anni fa insomma 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 l'ultima giornata con l'Inter Azzoli dopo una prestazione veramente insomma tutto cuore insomma siamo nei processi però insomma era stato mandato via il nonno lì quindi insomma non è neanche colpa tutta sua della processione e chi vuol capire capisca insomma con questo gesto qui e poi ragazzi insomma si arriva alla splendida appunto cavalcata di quest'anno 41 punti salvezza in carrozza come si dice senza mai insomma rischiare niente onestamente Empoli sempre insomma dal 13esimo 14esimo posto non ha mai rischiato niente con le ultime in classifica grande stagione un po' sì una insomma girone da andata bellissime poi un girone insomma di ritorno un po' così così che potrebbe appunto avere influito sulla decisione della società insomma da abbandonare insomma di non puntare più sul nonno come allenatore scelta che ragazzi insomma vedremo se insomma si rivelerà giusta o no diciamo che insomma si è chiuso questo ciclo appunto con Andrea Azzoli è stata fatta questa scelta qui sembrerebbe ragazzi ancora appunto le motivazioni non si conoscono sembrerebbe proprio appunto dalla parte della società questa scelta qui con appunto il nonno che ha appunto accettato però ancora appunto le motivazioni vedremo se insomma ci saranno dette io penserei insomma spererei di sì per capire un po' ecco insomma le motivazioni però insomma magari insomma secondo me si possono già capire appunto se era magari piegato qualcosa tra la società e il nonno un po' magari mancata insomma di stimoli magari la società pensava che insomma il girone di ritorno senza insomma senza tante gioie si potesse appunto ripetere anche per il prossimo anno tanti gol tanti gol subiti e vero tanti gol fatti ma anche insomma tanti gol subiti se non sbaglio una settantina di gol in tutto il campionato non che quelle dietro abbiano fatto meglio a gol subiti però insomma l'empoli ha anche segnato tanto e la società appunto ha pensato bene bene speriamo bene insomma di cambiare guida guida tecnica per insomma diverse motivazioni e il nonno d'altronde che devi fare quando ti dicono guarda noi si vuole cambiare insomma progetto è l'allenatore poi accetta però ripeto c'è da capire il perché di questa scelta però insomma massima fiducia alla società e poi insomma sul successore se ne parlerà insomma ragazzi io penso se non entro fine di questa settimana inizio della prossima c'è appunto l'ufficialità appunto di Zanetti e lì si capirà qualcosa in più anche insomma sul mercato che verrà ma comunque insomma ringraziamenti a nonno Andrea Zoli veramente per queste diciamo tre stagioni veramente splendide insomma qui danno a tempo insomma sempre grazie al nonno per insomma il suo gioco insomma le parole che ha sempre espresso insomma verso la piazza insomma onesto una persona che insomma ha sempre parlato chiaro quindi insomma grazie a nonno Andrea Zoli per quello che ha fatto e chissà e chissà insomma il ricordo comunque insomma nella piazza rimane sempre perché insomma con Andrea Zoli secondo me ragazzi è stato insomma uno dei insomma dei migliori che si è visto qui a tempo insomma il miglior calcio forse dietro Sarri soltanto insomma ragazzi insomma prima di tutto viene Sarri come qualità di gioco per me personalmente poi ragazzi è subito dietro il nonno quindi insomma grazie di tutto per questa avventura non grazie a voi voi fatemi sapere sotto cosa ne pensate ragazzi insomma di questo di questo addio e niente io vi ringrazio vi saluto like al video commentate condividete iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ciao